Musica All'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, innovativo intervento chirurgico per la rimozione di un tumore con il robot Da Vinci, siamo entrati in esclusiva in sala operatoria. Speranza per le imprese di Puglia, Basilicata, Calabria e Morise, nonostante eventi di crisi dell'ultimo periodo, questo è il quadro emerso dal premio Industria Felix. È arrivato anche a Taranto il villaggio di sport e salute, teso alla promozione dell'attività fisica e di uno stile di vita. Per salutare. Ben ritrovati, sempre in diretta edizioni provinciali del nostro telegiornale, in questa prima fascia dedicata a Taranto, come avete ascoltato dai titoli, in apertura di telegiornale c'è un innovativo intervento chirurgico per la rimozione di un tumore. È avvenuto questa mattina al Santissima Annunziata di Taranto, tutto pensate grazie ad un robot. E allora ci racconta tutto il nostro Gianmarco Sanzolino. Ci troviamo all'interno del blocco operatorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per documentarvi direttamente in sala operatoria un intervento innovativo che riguarda la rimozione di un tumore attraverso un macchinario altrettanto innovativo, il Da Vinci, che comincia ad essere utilizzato in questo ospedale e in particolare anche dal reparto di urologia. Come vedete ci siamo bardati e sanificati a dovere. In questi minuti viene addormentato il paziente. Sono le 8.15 e stiamo per entrare in sala operatoria. Abbiamo eseguito una prostatettomia radicale robot assistita per cui un intervento oncologico radicale di asportazione della prostata e dei linfonodi pelvici mediante la tecnica nerve sparing, ovvero poiché era possibile eseguirla con il risparmio dei fasci vascolonervosi cercando di garantire un maggior recupero della erezione nella fase post-operatoria. Come ci si trova a lavorare con questa consola? Abbiamo un'accuratezza dei movimenti molto maggiore rispetto alla chirurgia tradizionale e abbiamo una visione magnificata che ci consente anche di individuare i piccoli vasellini da coagulare per evitare appunto le trasfusioni ematiche nel post-operatorio. La migliore tecnologia esistente è applicabile nei campi di nostro interesse, fondamentalmente quelli oncologici con l'esecuzione di interventi che possono essere definiti di altissima precisione e altissima qualità. Apriamo la pagina dedicata alla politica e alle politiche. Partiamo dall'avvocato Dario Iaia, già sindaco di Sava, oggi candidato alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia in un incontro a San Giorgio Ionico. Siamo arrivati quasi alla fine di questa importante campagna elettorale. Sì, io direi finalmente per certi aspetti, ma al di là delle battute, è una bellissima campagna elettorale in un momento critico per il Paese, critico anche per Taranto e la nostra provincia ma come ogni campagna elettorale è un'occasione importante per incontrare cittadini, famiglie, associazioni, imprese per confrontarsi, per illustrare quelle che sono le idee di Fratelli d'Italia e di Giorgio Meloni e devo dire che stiamo riscontrando un grande consenso, una grande fiducia e soprattutto la voglia di sperare per un futuro più positivo per la nostra nazione. Qual è la sensazione in questo momento? La sensazione è di una grande speranza nei confronti di Giorgio Meloni, di Fratelli d'Italia, una grande fiducia, sentiamo che il consenso cresce sempre di più. Cosa porterà con sé di questa campagna elettorale? Porterò le tante esperienze, i tanti incontri, i tanti problemi soprattutto che mi sono stati prospettati. Un momento che non dimenticherà di questa campagna? Un incontro che ho avuto con delle persone anziane, le quali nonostante l'età hanno grande speranza e ricordano l'Italia così come era un tempo e vorrebbero che tornasse quell'orgoglio, quella fiducia, quella voglia di identità nazionale che noi avevamo. Per il terzo polo, ovvero azione Italia viva, ascoltiamo il candidato alla Camera, Angelo Dilena. Tra i candidati tarantini alla Camera per l'uninominale Taranto per azione il partito di calenda c'è Angelo Dilena. Ecco, quali sono le sue priorità? Che cosa serve a questo territorio? Cosa porterebbe a Roma? Capite bene l'importanza di avere un esponente del territorio che porta avanti le stanze di Taranto e della sua provincia. Bisogna lavorare tantissimo per molte aree tematiche, soprattutto per l'ambiente, le infrastrutture, per la scuola, il welfare, la salute. Bisogna risolvere tantissime problematiche anche all'interno dei comuni. Io da ex amministratore comunale conosco bene e comprendo bene le problematiche che incontrano ogni giorno i comuni. Una in primis che è prevista nel nostro programma ambientale è l'Atari. Si paga tantissimo, l'Atari costa tanto e poi i servizi sono inversamente proporzionali a ciò che si paga. Una delle proposte di legge del nostro programma elettorale, ad esempio, è quella di modificare il piano tariffario, perché non è giusto che si paga in base ai metri quadri e in base ai componenti di nucleo familiare. Invece bisogna dare dei bonus di premialità a coloro i quali svolgono una raccolta differenziata fatta in maniera efficiente. Parliamo ora di welfare aziendale con un convegno a Taranto. C'era l'assessore al ramo Barone, assessore regionale, ma c'era anche l'ex ministro al lavoro, onorevole Damiano Giri, candidato al Parlamento per il PD. Dopo Bari, Lecce e Foggia, l'ente bilaterale EBITEN, istituito da Sistema Impresa, Comsal, Fesica e Fisals, ha presentato anche a Taranto il progetto In Armonia, Lavoro e Famiglia, IALF, sostenuto finanziariamente da Regione Puglia. Un'iniziativa nata per diffondere nelle aziende del territorio le buone prassi in materia di flessibilità organizzativa, welfare aziendale, pari opportunità. Abbiamo creato in alcune aziende, faccio l'esempio della stireria aziendale, può sembrare una stupidaggine, ma ricevere la sera gli indumenti stirati significa una grande attenzione anche al tempo e quindi al lavoratore. Abbiamo sicuramente bisogno di aumentare, ma questo è andato in linea anche il PNRR, il numero degli asili nido in tutta la Regione, ma parallelamente abbiamo supportato anche quest'anno con i buoni servizi, tanto per gli anziani, quanto per i disabili, quanto per i minori, aiutando dal punto di vista finanziario le famiglie a poter usufruire degli asili, dei centri diurni, dei centri polifunzionali, in maniera da liberare le donne che così potranno andare a lavorare. In questo particolare momento, nel quale le retribuzioni sono basse e l'inflazione è alta, il welfare aziendale può intervenire a sostegno delle famiglie. Lei pensi soltanto ad aiutare le famiglie per le bollette del gas e dell'energia, per il carburante? Ex titolare di questo di Castero, oggi a che punto siamo in Italia e come valuta questa azione della Regione Puglia? La Regione Puglia mi pare impegnata in prima linea. I primi sei mesi di quest'anno abbiamo visto crescere l'occupazione di circa 900.000 persone rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, però prevale il lavoro a termine. Quando un imprenditore assume a tempo indeterminato, il legislatore deve dire io ti faccio lo sconto fiscale. Parliamo sempre di aziende, quelle felici nonostante la crisi, infatti c'è speranza. Bilanci 2020 resi negativi dall'effetto Covid, ma nello stesso tempo imprese dinamiche dall'alto fatturato che combattono la crisi e questo è il quadro che emerge dal 44esimo evento di Industria Felix che si è svolto a Taranto nel circolo ufficiali della Marina Militare e ha riguardato le imprese di Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. 90 le imprese più performanti a livello gestionale che hanno partecipato all'evento assieme a vari ospiti del mondo dell'economia e del giornalismo, presentato anche il rapporto CERVED con le previsioni di crescita per il prossimo biennio delle quattro regioni. Il 44esimo evento che celebriamo di Industria Felix e in particolare in questa edizione ci siamo concentrati nell'analisi dei bilanci delle imprese con sede legale in Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. Giusto che il premio Industria Felix focalizzi queste eccellenze perché è un modo anche per riconoscere agli imprenditori che guidano tali aziende il merito di farlo in momenti difficili e soprattutto con una capacità di rilancio dell'immagine dei loro territori che vengono proiettati anche a livello internazionale. Queste aziende che verranno premiate oggi, che fanno parte di alcune regioni del meridione d'Italia, se riusciranno a superare questo periodo in cui si sono concentrati in un'unica soluzione tutte le problematiche relative all'aumento dei costi delle materie prime, inflazione, tassi di interesse potranno sicuramente continuare ad avere dei risultati interessanti anche per quanto riguarda i bilanci futuri. Parliamo ora di contaminazione e sostenibilità all'interno dell'Ego Festival, un evento enogastronomico che unisce e riunisce chef stellati, pensate, da ogni parte del mondo. La città di Taranto sta superando anche dieci anni di ambientalismo fortemente ideologico che hanno creato la sovrapposizione d'immagine tra il suo ecosistema e la questione industriale. L'impegno, come quello messo in campo dall'Ego Festival, è vitale. Taranto sta faticosamente superando anche dieci anni di ambientalismo fortemente ideologico che hanno creato la sovrapposizione d'immagine fra questa città e il suo ecosistema con la questione industriale. La contaminazione e la sostenibilità intesa come rigenerazione e trasformazione caratterizzano l'Ego Festival. Riparte ufficialmente Ego Festival ma nei giorni scorsi abbiamo girato la serie televisiva, le immagini perché danno vita a una serie televisiva che racconterà il territorio della Puglia in maniera ampia e attraverso gli occhi di questi cuochi che arrivano veramente da tutto il mondo. Un turismo che punta all'enogastronomia, che si fonda però con realtà internazionali. Un importante evento dedicato soprattutto al turismo che punta sull'enogastronomia, sulla qualità delle nostre prelibatezze, dei nostri prodotti di eccellenza, che si fonda anche con delle realtà internazionali, chef stellati provenienti da tutto il mondo. Del resto la città di Taranto è al centro della programmazione turistica regionale. Con questi eventi andiamo a rafforzare questo concetto, andiamo a investire su prodotti turistici assolutamente richiesti. L'enogastronomia in Puglia rappresenta la seconda motivazione di viaggio, abbiamo necessità di raccordare la rete produttiva, gli oltre 10.000 ristoranti presenti nella nostra Puglia. Un evento di caratura nazionale ed internazionale parte appunto dall'enogastronomia, dalla cultura del cibo, guardando al turismo. Ha la finalità di promuovere l'enogastronomia e le eccellenze del nostro territorio che sono chiaramente uno dei fattori che noi utilizziamo anche per svolgere attività di marketing e per far sì che il traffico croceristico o il traffico legato alla nautica da riporto venga sempre più in Puglia, venga sempre più a Taranto. Restiamo a Taranto con il villaggio di sport e salute, si vuole promuovere l'attività fisica e uno stile di vita più salutare. Forte divertimento per avvicinare le persone di tutte le fasce d'età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell'attività fisica e la missione di sport e salute che ha toccato anche Taranto. Per l'occasione in Piazza Maria Immacolata è stato allestito un vero e proprio villaggio dello sport di oltre 1000 metri quadri, tutti hanno avuto la possibilità di vedere e provare gratuitamente tante discipline sportive diverse, presente anche una leggenda dello sport italiano, Valerio Vermiglio, pallavolista italiano e medaglia d'argento ai giochi olimpici di Atene e vincitore di ori ai campionati europei in World League. Possiamo dare quell'emozione che è quello stimolo in più, che porti i ragazzi intanto ad avvicinarsi, ad essere se stessi, ad esprimere quello che hanno dentro, la loro fisicità perché l'espressione movimento e il movimento è salute e di conseguenza felicità e socializzazione. Quindi fondamentalmente è un obiettivo che sembra semplice ma che non è facile perché passa da tutte queste piazze, passa da tutti questi ragazzi, passa da tutte quelle istituzioni come Comune, Amministrazione, ASD che ci supportano. Questa è in linea con le linee guida dell'amministrazione Melocce. sta puntando molto sullo sport come veicolo non solo di benessere fisico e mentale ma soprattutto anche come fine e veicolo economico, anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Travendo qui l'edizione dedicata a Taranto, allora ora le news, i titoli di Brimis e Lecce. La procura di Bari ha disposto l'autopsia sulla salma del bimbo di Francavilla Fontana morto a soli sei anni all'ospedale di Bari dopo due mesi di ricovero. Il piccino lo scorso luglio ingerì un mix di detersivi. Un giovane di 34 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente nel centro abitato di Fasano fatale in una caduta in moto. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria finanziati dalla provincia ha riaperto il palazzetto dello sport di Copertino nuovamente a disposizione di scuole e associazioni sportive. Ben trovati sempre in diretta alle news da Brimis e Lecce. L'unica indagata dalla procura di Bari per la morte del bambino di sei anni di Francavilla Fontana avvelenato da un mix di detersivi è la madre. La procura ha disposto l'autopsia in programma per la prossima settimana. L'ipotesi sulla quale sta lavorando la procura di Bari al momento è che ci sia un'unica persona responsabile, non volontariamente, della morte del bambino di sei anni, avvelenato dalla varichina e deceduto dopo due mesi nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. La madre del bambino, tuttora ricoverata in gravi condizioni in una clinica di Milano, ha ricevuto un avviso di garanzia in cui si ipotizza l'omicidio colposo. Si tratta di un atto conseguenziale alla decisione della procura di far eseguire un esame autoptico sulla salma del bimbo, in carico che verrà conferito lunedì prossimo. L'autopsia sarà effettuata poi nel pomeriggio di martedì nell'obitorio del cimitero di Francavilla Fontana, città natale del bambino e nella quale in via Capitano di Castri si è verificata la tragedia. La procura di Bari dunque al momento ha deciso di non dare seguito alla denuncia presentata dai nonni materni contro i sanitari dell'ospedale Giovanni XXIII, ipotizzando un presunto caso di malasanità e di procedere autonomamente per chiarire le cause dell'avvelenamento. L'ipotesi dell'omicidio colposo lascia pensare che gli inquirenti diano credito alla ricostruzione fornita dalla donna attraverso una lavagnetta sul letto dell'ospedale, secondo la quale il figlio avrebbe bevuto per sbaglio quel cocktail micidiale di detersivi che forse lei si era preparata per compiere un gesto estremo, tutto questo prima di lanciarsi dal balcone. Ma nella stessa informazione di garanzia, collegata allo svolgimento degli accertamenti tecnici non ripetibili con l'esame autoptico, si profila il coinvolgimento di altre persone in maniera indiretta nel delitto colposo, il tutto in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti da parte dell'altra procura coinvolta, quella di Brindisi. Ancora cronaca, un giovane di 34 anni, Emanuele Vincenzi, ha perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto nel centro di Fasano. Il giovane era a bordo di una motocicletta, inutili soccorsi degli operatori sanitari del centro di Suciotto, sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo della sua Triumph, finendo sotto un'auto in sosta. La moto ha poi proseguito la marcia, andando ad abbattere un palo della pubblica illuminazione. Inutili i tentativi di salvare la vita al motociclista, Vincenzi lavorava presso un noto gommista di Monopoli ed era un grande appassionato di moto. La salma dello sfortunato Centauro è stata restituita alla famiglia per l'ultimo saluto. Voltiamo pagina, parliamo di incontri elettorali all'interno dei locali del palazzo di città a Surbo. C'è stata un po' di polemica sulla questione, ma assicura il sindaco. È tutto regolare. Si susseguono in modo incessante i tour elettorali dei candidati in corsa per un posto a Parlamento, incontri in piazza, nei comitati, nei circoli politici, nei ristoranti. Accade però che a Surbo il sindaco Roni Trio metta a disposizione anche la sala consigliare che ha colto proprio nelle scorse ore il vice ministro Teresa Bellanova in corsa per il terzo polo. E da allora è subito polemica. Polemica un po' fuori luogo nel senso che vorrei ricordare a chi ritiene che siano state fatte delle irregolarità che esiste una legge dello Stato, la 515 del 1993, richiamata da una circolare della prefettura di Lecce diramata a tutti i comuni, secondo la quale i comuni sono tenuti a concedere sale di proprietà adibite a conferenze, workshop e quant'altro a chi ne faccia richiesta nell'ambito della competizione elettorale. Quindi in questo caso l'unica sala che noi abbiamo è la sala consigliare, se avessimo altri spazi le avremmo sicuramente concessi, e ci siamo mossi esattamente in conformità alle norme di legge e alla circolare della prefettura. Quindi qualunque forza politica dovesse anche nei prossimi giorni, anzi nei prossimi ore ormai, fare richiesta, noi la concederemmo perché siamo tenuti a farlo sulla base di questi richiami normativi che ho appena fatto. Ci sono arrivate richieste da parte del centrodestra in questi giorni? No, non c'è arrivata nessuna richiesta. L'unica richiesta formulata ufficialmente è quella da lei appena citata. Non ci sono stati altri incontri all'interno della sede comunale, e quindi questo noi ribadisco ci siamo mossi esattamente nel solco di quanto stabiliscono le norme. Non abbiamo fatto nessuna concessione, nessun favoritismo, nessun'altra operazione fuori dalla legge. Andiamo a Francavilla Fontana. Con Via Roma ne abbiamo parlato più volte, destinata a diventare nel prossimo futuro un'isola pedonale, ovviamente in attesa che si concludano i lunghi lavori di restyling della strada, e cospuntare i nuovi parcheggi a tariffa agevolata nei locali dell'ex Fiera dell'Ascensione. Insomma si parla di viabilità, di mobilità e anche di qualche polemica con una richiesta che arriva dai banchi dell'opposizione. Da una parte le polemiche sui lunghi lavori di Via Roma, destinata a diventare un'isola pedonale, dall'altra la mossa dell'amministrazione che riappropriatasi dei locali ha creato dei nuovi parcheggi a pagamento agevolato nel cortile dell'ex Fiera dell'Ascensione. L'idea è quella di decongestionare il traffico e soprattutto recuperare parte di quegli stagli perduti. Noi stiamo provando a mettere in campo delle misure che sono in connessione tra di loro, e sono misure di mobilità sostenibile appunto. Si può arrivare a qui, qui è un punto di ingresso della città, però è anche nel pieno centro abitato, si può lasciare l'auto e poi spostarsi a piedi verso il centro cittadino, verso Piazza Umberto per intenderci, percorrendo poche centinaia di metri sotto i digli. Abbiamo anche la fortuna di poter indicare questo percorso che è bello. D'altro canto le forze d'opposizione chiedono lumi sui lavori di Via Roma, a cantiere aperto lo scorso febbraio e c'è chi chiede vengano riconosciuti dei ristori ai commercianti danneggiati. Intanto dei ristori per i commercianti, proprio come è stato fatto anche in alcuni comuni della zona, ricordo a tutti i mesagni dove ci sono stati dei ristori per i commercianti, cercare di trovare delle agevolazioni. Siamo in un periodo veramente usciti dalla pandemia, siamo in un periodo di crisi energetica e quindi il comune oggi deve dare delle risposte al tessuto economico della città. Di certo il centro abitato di Francavilla Fontana è destinato a cambiare come la sua viabilità, come le abitudini di chi ogni giorno qui ci vive e ci lavora. Prendiamo invece ora dei lavori di manutenzione straordinaria finalmente conclusi per il Palazzetto dello Sport di Copertino in provincia di Lecce. Lavori finanziati dalla provincia con 222.000 euro per una struttura che è nuovamente a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive del territorio. Il Palazzetto dello Sport di Copertino è nuovamente a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive del territorio. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dalla provincia con 222.000 euro che hanno consentito di sistemare zona gioco, gradinate, spogliatoi e sistema di raccolta delle acque piovane, ha riaperto ufficialmente con una cerimonia e il relativo taglio del nastro alla presenza di autorità civili e religiose, comunali e provinciali. Questi meravigliosi giovani saranno il cuore di questo palazzetto, coloro che daranno vita giorno dopo giorno con le loro attività ma soprattutto con il loro entusiasmo, con la loro gioia. E speriamo che qui possano ritrovare se stessi attraverso i vari momenti che saranno messi a loro disposizione. Una giornata particolare non solo per entrambe le scuole, Don Trinobel e il Bacilè, ma per l'intera comunità di Copertino che trova nel palazzetto il cuore pulsante dello sport, della vita portata avanti in maniera salubre perché comunque lo sport determina il benessere, migliora la salute e soprattutto tanta integrazione. Siete contenti di ritornare al palazzetto? Siamo molto contenti anche perché questo comunque stabilimento mancava quindi con la sua presenza adesso ci divertiremo molto di più. Siamo contentissimi dopo quattro anni di attesa, siamo felicissimi della riapertura. Lo sport è salute, benessere ed è un punto d'incontro per tanti ragazzi e tanti giovani che per tutti questi anni sono rimasti senza un punto dove fare sport. Andiamo avanti, è stata presentata la prima classe di indirizzo musicale, una novità che arriva da Brindisi, quartiere Casale. Una classe di indirizzo musicale per la scuola secondaria di primo grado Kennedy dell'Istituto Comprensivo Casale di Brindisi che a partire dal corrente anno scolastico è diventata scuola di indirizzo musicale e si proporrà di promuovere, valorizzare e potenziare la passione per la musica come mezzo di espressione individuale e sociale. Un anno scolastico che quindi riparte a suon di musica, con l'insegnamento dello strumento musicale che sarà gratuito e guidato da docenti specialisti selezionati sul piano artistico e didattico dal Ministero dell'Istruzione. Un progetto fortemente evoluto dal comprensivo Casale che oggi diventa realtà. La sezione di indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Kennedy dell'Istituto Comprensivo Casale è una realtà. Abbiamo lavorato tanto, i docenti hanno collaborato affinché questo sogno si realizzasse. Abbiamo una prima classe di 20 alunni che studieranno e si tratteranno a scuola tre ore in più appunto per approcciarsi a un rapporto tra l'insegnamento e l'apprendimento in nome della musica. Quindi faranno un rapporto tra l'insegnamento e l'apprendimento in nome della musica. Sono tre ore in più nello studio di musica ed insieme e dei quattro strumenti scelti. Sassofono, chitarra, pianoforte e percussioni. I bambini nella musica trovano uno strumento di comunicazione e oltre di aggregazione. E questo è un segnale fondamentale, anche un pilastro dell'insegnamento della scuola. È un pilastro dell'insegnamento perché noi grazie alla musica riusciamo ad avvicinarsi e ad entrare nel mondo delle nuove generazioni. Proprio perché il linguaggio musicale è un linguaggio comune a tutti. La casa di Virgilio che apre per la prima volta alle visite accaduto ieri a Brindisi. La prima apertura al pubblico avviene il 21 settembre. Non è una coincidenza. Quel giorno, nel 19 a.C., in quella casa sarebbe morto il poeta latino Virgilio. Siamo in cima alle scalinate delle colonne romane affacciate sul porto di Brindisi. Grazie a un accordo tra il comune, che mette a disposizione le guide qualificate, e i proprietari dell'immobile, la famiglia Petrachinozzoli, la casa viene aperta per la prima volta al pubblico. Un architetto e pittore tedesco che è venuto a farsi un giro e ha trovato praticamente quello che voi vedete, che lui ha riprodotto come casa di Virgilio, considerando che di fatto, essendo Virgilio morto a Brindisi e vicino al porto, l'ha considerato come casa di Virgilio. È un appuntamento importante, è un appuntamento su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi, grazie al contributo anche di esperti del territorio che ci hanno agevolato nel dialogo con la proprietà e grazie ai proprietari che hanno messo a disposizione gratuitamente il bene, che appunto rappresenta la casa di Virgilio, quindi un luogo simbolo per il nostro territorio. È fantastico. Penso che il desiderio di tutti i Brindisi sia quello di entrare nella casa di Virgilio e finalmente lo si può fare. È una sensazione unica. Le visite alla casa di Virgilio sono organizzate dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e potranno essere prenotate a partire dal 25 settembre presso l'Infopoint comunale situato a Palazzo Granafei, Nervegna. Ed è tutto anche per l'edizione provinciale dedicata a Brindisi e Lecce. Restate con noi, ora c'è il TG Sport. Grazie per l'attenzione. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.